Chi c'è dietro alla formula che ha portato al successo un'azienda leader nel settore della detergenza e cosmesi? C'è un grande team perché la chimica, quella innovativa, responsabile ed efficace, si crea partendo da un altro tipo di chimica, quella fra le persone, superando le barriere per mettere in comune le energie. Io analizzo i bisogni del mercato per sviluppare nuovi prodotti per i nostri marchi. Il mio lavoro è creare formule innovative per la detergenza e la cura della persona. Crediamo nella capacità di costruire legami forti e stabili. Quando c'è questa chimica si può innovare, anche rapidamente, perché il mondo è veloce e noi lo siamo con lui. Sappiamo come unire le forze per farle reagire, per creare nuove soluzioni e nuove idee per il futuro, ad esempio questa. Una scelta di sostenibilità in risposta alla crescente attenzione per l'ambiente. Ascoltiamo, pensiamo, progettiamo e misuriamo i risultati. Investiamo nelle ricerche scientifiche. Con lo spirito di chi vuole mettersi alla prova per esplorare nuove strade. E nel continuo aggiornamento di tutti i processi aziendali. Dalla digitalizzazione degli impianti, all'automazione della logistica, miglioriamo ogni giorno come facciamo le cose. Sei talento, qui c'è spazio per te. Partiamo dalle persone, i dipendenti, i fornitori e i clienti. Che sono la nostra più importante fonte di informazione. E verso i clienti siamo anche responsabili dei nostri risultati. Con la massima trasparenza. La formula del nostro successo non è un segreto. È l'entusiasmo verso obiettivi condivisi. Anticipare i bisogni nell'ambito della detergenza e della cosmesi. Con soluzioni che promuovono il benessere delle persone e la tutela dell'ambiente. Grazie a tutti. Questa la teniamo.